E quale sarebbe dovuta essere la capitale d'Italia? Io mi sono sempre chiesto perché, perché non mi stupisce che persone intellettuali come Giuseppe Mazzini che doveva tutto allo studio della storia, allo studio prima di tutto del libro di Sismondi, puntasse su Roma capitale, né che i democratici come Garibaldi nati sulla lettura di Tito Livio e di Tacito pensassero a Roma e come capitale in quanto Roma era il progetto di rinascita della grandezza passata che doveva essere realizzato e quindi la rivoluzione nazionale, l'indipendenza, la costruzione dello Stato sarebbero stati la premessa per una riforma morale, rigenerazione morale col recupero di questa età straordinaria della Roma imperiale. Ma mi stupisce che questa idea l'abbia confermata Camillo Cavour, un uomo pratico, un grande economista, un finanziere e ho riletto i discorsi su Roma capitale, il famoso discorso del 24 marzo 1861, questa nazione non si può fare senza avere come sua capitale Roma, perché Roma è l'unica città di questo paese a non avere memorie esclusivamente municipali. Era sincero? Cavour? Parole bellissime. Erano sincere o non erano sincere? Io sono incerto. Penso che Cavour parlasse a qualcuno che non era presente in quella sala, parlava a qualcun altro e mi sono chiesto a chi parlasse. D'altra parte Cavour era stato complice di un'operazione che non era sua, ma che era stata essenzialmente di Alfonso Ferrero della Marmora, quello che noi chiamiamo la Marmora, che fece arrestare l'arcivescovo di Torino, il genovese Franzoni, perché morendo il ministro dell'agricoltura, che era in realtà Pietro De Rossi di Santa Rosa, il cugino di Santorre di Santa Rosa, muore e non gli vengono concessi i sacramenti. La negazione dei sacramenti da parte di un sacerdote barnabita provoca una reazione violenta del governo del regno di Sardegna che fa arrestare l'arcivescovo e il barnabita e fa scegliere da Torino i barnabiti per sempre con una reazione violentemente anti-ecclesiastica, forse addirittura anti-cattolica. Allora loro erano molto amici, c'era la discussione delle leggi siccardi che stabilivano l'abolizione, poi ci sarà, del foro ecclesiastico. Ma perché questo continua sfida, provocazione contro la Chiesa cattolica? Cioè a noi oggi ci sembra incredibile, nessuno lo farebbe. Cioè c'era la ricerca dello scontro, bisogna essere onesti, i cattolici avevano ragione, era un'attività assolutamente provocatoria, esagerata. Anche lì parlavano a qualcuno, c'era qualcuno a cui parlavano. Questo qualcuno io penso che era il popolo rivoluzionario delle città, che aveva quasi realizzato la rivoluzione negli anni post-napoleonici e che oggi era, in quel momento era ancora lì, tutto presente. Stiamo pensando a un milione di persone che era stato coinvolto nelle città italiane. Allora fare di Roma capitale era parlare a loro, al romanticismo di questi anziani rivoluzionari che il giovane primo ministro Cavour voleva aggregare nella sua politica realizzata da conservatore, illuminato, progressista, geniale e rivoluzionario, ma in cui loro erano dei portatori d'acqua, ma erano dei portatori d'acqua che gli davano la legittimazione per fare quest'operazione così di rottura. E quindi questa idea di andare a disturbare il Santo Padre, la Chiesa Cattolica, difesa da un'armata francese, quando logica avrebbe portato a fare dell'unica grande città europea che aveva l'Italia la capitale, che era Napoli, che aveva tutte le caratteristiche di essere la capitale, sia le strutture, i ministeri già pronti, sia il porto, la connessione col Mediterraneo, l'apertura verso i collegamenti, oppure Milano, Milano che era stata brillantemente capitale del Regno Italico, della Repubblica Cisalpina, della Repubblica Italiana, in anni napoleonici, la città europea, erano perfette capitali. Persino Firenze, città municipale, senza le caratteristiche di apertura di una capitale, non aveva poi fatto male, come si vedrà tra il 1864 e il 1870, quando Firenze fu capitale d'Italia. La stessa Torino, a Sentinella delle Alpi, giusto lì vicino ai trafori costruiti da Cavour, non aveva poi fatto male come capitale. Ma io dovendo esprimere personalmente una preferenza, dico che il Regno, che per mille anni aveva realizzato Napoli come capitale, sarebbe stata la soluzione più sensata. Tra l'altro avrebbe costretto ad affrontare il problema del Mezzogiorno in tutt'altra maniera.